Tre false miti su infissi in acciaio e in alluminio. Ciao, sono William Bisacchi, fondatore di blog bisacchi.it e titolare della Bisacchi Infissi, che dal 1973 si occupa di infissi per abitazioni e ville private. Oggi voglio rispondere alla domanda su questi tre false miti sugli infissi in alluminio e in acciaio. Primo falso mito, gli infissi in alluminio e in acciaio non sono isolanti. Era vero con gli infissi di una volta, quelli dove era alluminio e acciaio senza taglio termico, ma con la nuova tecnologia del taglio termico questo non può essere più vero, anche perché i dati lo dimostrano. Un infisso in alluminio e in acciaio con un ottimo taglio termico come quelli che proponiamo alla Bisacchi hanno gli stessi valori termici, quindi di watt per metro quadro, kelvin, di un infisso in PVC in legno. Secondo falso mito, gli infissi in alluminio e in acciaio sono freddi. Questo è qualcosa che non può essere vero con un infisso a taglio termico di ultima generazione, dove c'è del materiale isolante che separa la parte esterna da quella interna. Questo isolante si comporta come nei vetri doppi che c'è dello spazio, in quel caso è l'aria che va a isolare, in questo caso è un materiale termico. Quindi non essendoci passaggio di caldo e di freddo non possono essere freddi gli infissi in alluminio e in acciaio. Terzo falso mito, gli infissi in alluminio e in acciaio fanno condensa. Anche questa è una credenza che risale ai tempi dell'alluminio freddo senza taglio termico. Oggi con l'isolamento termico che separa l'esterno dall'interno, l'infisso non può fare condensa in un ambiente sano. Un'ultima cosa molto importante, questi falsi miti finalmente sfatati vengono veramente sfatati a patto che ci si affidi ad un'azienda seria, un'azienda che lavori in un certo modo, che lavori con le ultime tecnologie, che abbia gli infissi di ultima generazione, che appunto vanno a sfatare questi falsi miti. Un'azienda ad esempio come la Bisacchi, che lavora da oltre 50 anni con il sistema Bisacchi, che è un metodo di lavoro diverso da tutto quello che si può trovare sul mercato. Alla Bisacchi, nella mia azienda, abbiamo il sistema Bisacchi, che è il nostro metodo di lavoro, che parte da una consulenza che viene fatta proprio qui in sala vostra, dove sono in questo momento, e dove ti guidiamo nella scelta del serramento, meglio per le tue esigenze e anche per come è strutturata a casa tua, quindi le dimensioni delle finestre, dell'esposizione, eccetera, eccetera. Poi si va in progettazione dell'infisso attraverso AutoCAD, la produzione dell'infisso perché siamo produttori da 50 anni, da 51 per esattezza. Poi si va nella fase di poso in opera, dove l'infisso viene posato con il sistema Bisacchi, quindi con le ultime tecnologie presenti sul mercato, dagli stessi tecnici specializzati che hanno costruito l'infisso stesso. E poi avrai diritto alle tre nostre garanzie, che sono i costi certi, dieci anni sulla posa in opera e il controllo gratuito entro 24 mesi dalla fine dei lavori. E poi c'è il servizio di assistenza, sempre disponibile a tutti, ed eventualmente il servizio BeCare, che è una manutenzione in abbonamento facoltativa, nella quale una volta all'anno il nostro tecnico specializzato, Filippo, viene a controllare e regolare i tuoi infissi in modo che rimangono belli, efficienti e nuovi per sempre. Se anche tu vuoi essere seguito da dei professionisti, vuoi essere aiutato attraverso la consulenza e vuoi avere le tre garanzie sul risultato finale, compila il form che trovi qui sotto e ti contatteremo entro 24 ore.